Milano, ragazzi. Milano. Ma perché l'avete fatta scendere da questa benedetta nave? Non ha una lì. Il marito non si sa dov'è. La signora è sua parente? E' mia moglie. Marocco-Algeria sarà una cosa del tutto naturale. Per le leggi italiane lei è bigam. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali o dove si svolga la sua personalità. Questo dice l'articolo 2 della Costituzione. Non si intende la famiglia, forse? La famiglia del signor Cade, con le sue due moglie, i suoi figli. C'è da vergognarsi. Non finisce qui, faremo ricorso. Porteremo questo caso in televisione.